E beh, alcuna matata ben ritrovati dal vostro Icevro89, nuovo capitolo di Fortnite, sempre su un porto a un creatore cicciocamera89 nello shop, signori vi faccio vedere un paio di cose. Come saprete, ho giocato solo 12 ore domenica in live, insieme a Power, e sì, ho shoppichiato, ho fatto un po' di cose, ma ho ben capito un po' il meta di questo nuovo Fortnite. Mi piace tantissimo la nuova season, fatemi sapere voi qui sotto che cosa ne pensate. Ve lo ripeto, guardate un po', me l'ha tolto, quindi voi ciccio gamer89, regà, perché sennò diventa un casino perdere tutte le partite. Mannaggia, ho, sempre io me lo devo ricordare. Zero, costruzioni, magari singolo, magari. Molto difficile giocare in singolo, singolo, paracadute sulle spalle. E let's go. Ci sta, mitraglietta è un po' più forte della pistola, dai, facciamone un'altra, ma... Eh, hai capito? Capito, ragazzi? È un problema questo, eh? Regà, è un problema, questo è veramente un problema, il martello forse è troppo grande, io non avevo modo. Un po' troppo, poi non so che a... Madonna, ragazzi. Giusto, voglio la pumpa dietro al culo? Eh, l'allero, un po' di chi. Madonna mia, quanto faccio schifo, quanto faccio schifo, faccio defecare. Ma è sopra anche lui. Eh, raga, porco mondo. Ok. Ok, molto bene. C'è modo, raga, uno scambiabare è incredibile. Io sento sparare, ma... Non ce la farò mai, vero? Ok, speriamo che non ci abbia niente. Ed è incredibile. Com'è fatto, bro? Raga, la pistola, raga. Ah no, mi ha ucciso con una granata. Madonna il Dio, raga, madonna il Dio. Ve voglio bene, quindi sto cercando di nuovo, di nuovo, di chiudere qualcosa di interessante. Non sto capendo dove... Non sto capendo dove... Ok. Una kill l'abbiamo fatta. Sto per mettermi a piangere. Ok. Devo fare per forza così. Ok. Cioè, praticamente non c'è mai niente questo. Cioè, praticamente io... Ho paura. Ok. Ok, sta arrivando quello col martello che va decisamente... Due col martello, se non erro. Madonna mia, ragazzi. Settanta. Settanta. Sì, ci sta che mi spari, ci sta. Perché? Non è che io sto messo benissimo qua, eh. Tanto visto, ma mi puscia. Mi puscia col martello, rega, io uso. Ma, another one. Vabbè. Perché tu mi stai prendendo... Sì, 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 sì. C'è un altro da dietro. Regà, me la devo giocare un po' più camper. Sono sicuro abbastanza. Pusho troppo. Pusho troppo, regà. Pusho troppo. Devo stare un po' più calmo. Anche perché quello l'ho massacrato. Quello lì l'avevo massacrato. Massacrato. Farmi... Roba dorata cambierebbe qualcosa. Secondo me, no. Fosse quello il problema. Mio Dio, l'arma suprema. L'arma suprema, raga. Ah, ok. Ah, quello era... 29, 29. Quello era quello lì di prima. Che mi vuole massacrare, regà. Io comunque ho dei momenti di lag veramente, veramente estremo. Ancora è vivo? Delle volte poi... Sono... Obbligato, no? 30, 30. Ok. Sì. Decisamente, decisamente questo. Mamma mia, sto un po' fortunato, eh. Guarda quanto è figo sto perk. Io entro qua dentro, non mi muovo e mi curo. Una bomba. Però non dovete uscire da qua. E vi cura 50. Bellissimo. Il problema è che con queste armi che ci stanno, veramente uno rischia di... Creparci malissimo, eh. Guarda che quest'arma è gigantropica, io ve lo dico. Non mi sembra di vedere niente. Non mi sembra di vedere nessuno. Eh. Non lo so, ragazzo. E beh. Secondo me no. No, questo me lo lascio. Questo me lo devo lasciare. Il tizio credo che ancora sia dentro la safe. Sì. Totale 77. Non mi sembra così brutto. Cioè, cercando di mettergli un po' pressione, eh. Maga del geletto, regalo perfetta. No. Ehm. Ok. Questo è l'unica cosa decente che posso prendere. Non lo so, regalo. Vedo brutta. Non c'ho armi, non c'ho niente. Madonna mia, regalo. Già che sto arrivato qua, sono molto contento. Sono molto, molto contento. E ma penso che qua non c'è stato niente. O c'è poco o niente. Ah, vabbè. Ah. Questo è il perk. Non so se avete notato. Fruttatile, secondo me, può essere un botto buono, regà. Secondo me sì. Dai. Oh, yes. Oh, yes. Bello, 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 bello come perk. Tanto qua più apro e più mescono queste cose, guarda, eh. Mamma mia, una quantità di questa roba mesce. Madonna, i martelli. C'è uno che stava workando. Cioè, stava girando con questa roba, regà. Pazzo. Gente pazza. Ok. Cioè, ho una mira di merda, posso dirlo? 29, grazie. Che mi dai? Vedi che dovete andare in campionato? Hanno più salute? No, cambio. Il primo assalto. Ok, questo non è male. Oh, regà. Non mi sto per sentire male, eh. Andiamolo da questo qua. Oh, c'è la corona. Che se non scompare. Quasi, quasi. Ok. No, no, no. Te prego. Mica mo' merito, eh. Ah, io. Tacci tua. E tu madre, e tu nonna. Ah, sì, sì. Quanto sei bello. Siamo rimasti in dieci. In realtà, tantissimi. Questo si può usare. Magari per cercare una zonina. Vedi? Un po' più tranquilletta che poi zona tranquilletta. Porta Knight da adesso. Zona tranquilletta. Quella? È fuori. Tranquilla? Fuori. Mamma mia. Questo castellino è dentro. Castellino e castelluccio. Cos'è bello? Quanto sei, caruccio? Rimasti in sette. E te pare, e te pare, e te pare. Qua sopra sicuramente c'è via qualcuno. Cento per cento, regà. Sì, senti? Senti che storia. C-2. Se riesco a tenermeli un attimo sotto, sarebbe proprio gucci, gucci, gucci. Ah, questo è il bot, il mortacci tua. Guarda che c'è. Fammi così, va. Non so dietro, sembrerà qualcuno, ma. Ok. Allora, sicuro uno sotto. Uno a destra. Quindi sotto, destra. E l'altro, e mi manca completamente. Bene, una botta di culo ogni tanto. Perché io l'ho visto che sta qui il tizio. Sta qua. Dai, ce l'avrò tutto e due sotto, su. Raga, ma io già che sono arrivato qui, cioè, sono tipo entusiasta. Se posso... Se posso dire la mia. Non me lo devo far girare dietro, raga, perché sennò sono cazzi miei. Non deve girarmi dietro, raga. Vedi? Bella mira, sì. Devo cercare... Devo mandarli tutti quanti verso qua. Ok. Scusate se non farlo, eh, ma. Ok. 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 Dove è andato? Io non lo so Eh raga Raga io uno non capisco come abbia fatto A non morire il tizio Seriamente Non ho capito come ha fatto a non morire Eppure pensavo di fare la kill mega ancestrale Ma probabilmente sono cascato sulla pietra un pochino sopra Lui era sotto Ciao Grazie a tutti.